La carcere e la scuola sono luoghi estremi, sono confini interni alla città, sono confini interiori e una città, mi sono andato convincendo in questo percorso che io stesso ho fatto nelle carceri e nelle scuole, che una città e che i confini di una città sono confini di voce. Una città arriva fin dopo la voce a parola, quando si smorza in un grido, resta tonita, la città finisce. E allora la città finisce quando ci sta un corpo a terra, quando ci sta qualcuno che grida, la città può finire pure nelle nostre case. I confini di una città sono i nostri gesti, i nostri comportamenti, i nostri legami, le nostre relazioni. E allora tu mi hai chiamato qui a parlare su queste cose, mettendo al centro l'impressione della normalità dell'arte. Io francamente mi ci trovo bene perché tante volte ripeto che io non sono una persona normale, quando lo dico tutti quanti dicono sì, lo abbiamo capito, ma mi sono abituato a ripetere che non sono una persona normale perché ogni volta che essendo il telegiornale, mi sento ripetere, era una persona normale. E però insomma ha ammazzato un bambino, era una persona normale. E allora probabilmente è meglio non essere una persona normale, insomma, per non incorrere poi in questa situazione. Evidentemente è la normalità che produce il deragliamento. Io mi occupo così, insomma, nel mio percorso incontro bambini e incontro detenuti. Qualcuno mi ha detto ma com'è che passi dai bambini ai detenuti? Perché dico quelli sono all'inizio del percorso formativo e quelli hanno deragliato il percorso formativo. Bisogna chiedersi proprio del percorso formativo. Poi sapete mi sono andato convincendo e lo ripeto spessissimo, perdonate, prima di entrare proprio nel punto di argomento e nel titolo che mi sono dato, l'arte della libertà. Permettetemi di insistere ancora su questa premessa, nei convincimenti che mi sono venuti in questi anni. E cioè che il grado di democrazia di un paese si misura dallo stato delle sue carceri e delle sue scuole. Quando le carceri saranno scuole, quando le scuole non saranno carceri, allora quel grado di democrazia avrà raggiunto il suo punto più alto. Se uno fa attenzione, i problemi del carcere sono gli stessi problemi della scuola. Cioè le lamentele che si fanno sono le stesse. E quello che è più preoccupante, quello che mi preoccupa particolarmente in questi giorni è che vedo che ci si riferisce a dei provvedimenti che riguardano la scuola e il carcere che sono praticamente similari. C'è un rimando. Oggi si parla dell'alternanza scuola-lavoro e si parla del lavoro in carcere. Per me queste cose mi fanno rabbrividire in qualche modo perché mi ripertono di nuovo l'analogia del rimando tra il carcere e la scuola. Ma mi fanno anche pensare che appunto è una regressione. Cioè non ci vuole il lavoro, ci vuole l'arte perché è l'arte che libera. Il lavoro produce, il lavoro riproduce, occupa il tempo ma non lo libera. Il lavoro rende anonimi, l'arte rende singolare. Anche se poi l'opera d'arte perde subito il suo autore. Se ne va e degli altri. Ma intanto proprio nell'arte si dà l'espressione della libertà. Guardate, mi colpi molto. Uno dei primi giorni ero a Carinola, il carcere di Carinola. Adesso non è più come l'ho conosciuto io il carcere di Carinola, che era una casa di reclusione, una sorta di Guantanamo nostrale. Adesso insomma si è aperta alla sorveglianza dinamica. Bene, quando entrai nel carcere di Carinola, la cosa che mi colpì, lungo quel corridoio che portava dalle sale della scuola alla scala che poi conduceva ai piani delle celle, furono i tanti carrelli, uno dietro l'altro, che ospitavano delle tele bianche. Mi chiesi ma che cosa servono tutte queste cose? Niente, perché lì dipingono molto. Cioè in carcere si fa arte. Cioè dipingono, chi dipinge ci sta chi scrive. E io ripeto sempre alle persone che incontro, c'è per esempio Giovanni che mi scrive ogni giorno, gli dico Giovanni guarda, non è che io posso risponderti ogni giorno, però quando ci incontriamo ne parliamo, ma tu continua a scrivere. Perché chi scrive si iscrive in quello che sta scrivendo. Cioè, ma non so scrivere, ma lì devi scrivere perché così tu diventi leggibile. E stare nella legge è esattamente stare nella leggibilità, di fare delle cose che siano leggibili. Lo scrissi pure all'altro detenuto che finì di nuovo nel 41 bis, già c'era stato per 16 anni. Per me è una follia pensare a una persona di 16 anni in isolamento. La cosa che mi stupiva è la sua capacità di parlare, di ragionare. Beh, quando mi scrisse e arrivò la lettera con io ho visto che aveva passato la censura, io dissi continua a scrivere, negli risposi scrivendo a mia volta, continua a scrivere. Sappi però che chiunque scrive c'ha sempre un lettore sulle sue spalle, anche chi scrive un bigliettino per conto proprio, c'ha sempre un lettore se stesso in quel caso, quando scriviamo delle cose e poi le rileggiamo e diciamo quanto è brutto e poi lo buttiamo, siamo i peggiori giudici di noi stessi. Ma c'è sempre qualcuno che legge quello che si scrive, poi quel bigliettino se lo recuperi dopo qualche tempo e lo leggi e dici, accidenti ma che cosa bella insomma che avevo scritto. Ecco, c'è bisogno che passi del tempo perché nella leggibilità possa trovare anche il suo racconto. Quindi scrissi queste cose al mio Mimo, non mi è arrivata mai più una lettera di Mimo, penso che la mia sia stata censurata, la sua no, ma la mia è stata sicuramente censurata. Devo dire dell'arte, lo dico velocemente, sì, l'arte libera, non c'è alcun dubbio l'arte libera, ma c'è un'arte della libertà? Guardate che è un po' più complicata la cosa, cioè l'arte libera ma qual è l'arte della libertà? Come la possiamo indicare, quest'arte della libertà? Ho scucciato tante cose, ho fatto tanti pensieri, però mi sono fermato su una frase terribile che è una frase di Dostoievski dai fratelli Karamazov che dice nulla è più seducente per l'uomo della libertà di coscienza, ma nel contempo non c'è nulla che per lui sia più tormentoso. La libertà che noi invochiamo è sempre qualche cosa, sì, che ci auguriamo, che auspichiamo, che tentiamo, che vogliamo raggiungere, però è anche la cosa più tormentosa. Sì, nell'arte l'artista si libera, ma non smette il suo tormento, chiede all'arte qualcosa di più, ma appunto in cui l'arte si esprime anche. Cioè la libertà è qualcosa di tormentoso, tutta la storia della libertà è fatta di tormenti, ma che cos'è una libertà? E allora mi viene da riflettere su questo, che per me è molto importante. Nessuno è libero da solo. La libertà è fatta di legami e ci sono dei legami che imprigionano e dei legami che effettivamente ti lasciano libero e ti lasciano esprimere, sarà questa la libertà, quella di esprimersi. Ci sono dei legami che ti imprigionano e dei legami che invece ti lasciano esprimere. Anche il grado di libertà di un paese si misura dalla qualità dei suoi legami. Noi non possiamo dire di essere un paese libero se non riferendo la nostra libertà ai nostri legami sociali, allora capiremo se siamo e come siamo liberi. Sapete questa parola, libertà, è una parola latina ed è curioso perché è libero e sia il libro sia l'essere libero. Non è che però uno è libero quando legge più libri, assolutamente no, perché quello è libero che dice del libero ed erano liberi gli schiavi che ricevevano i nomi di famiglie ed erano liberi i figli che venivano riconosciuti dai genitori come figli legittimi. Cioè quel libero sta a significare che si è libero quando si è iscritti nel libro della città, nel libro dell'anagrafe. Anagrafe in greco significa iscrivere, cioè chi è iscritto nel libro e allora quello lì è anche libero. Cioè di riconoscimento. adesso chi non è libero si dice appunto clandestino, chi è senza documenti e in qualche modo appunto la libertà non è semplicemente quella di leggere il libro ma quello di essere riconosciuto. Però l'immagine del libro ci sta bene, ci sta bene anche nel senso appunto dell'iscriversi, di essere per se stessi un libro. L'arte libera ma qual è l'arte della libertà? Penso che l'arte della libertà sia l'arte dei legami. Oddio la politica dovrebbe essere l'arte della libertà ma non lo è perché si misura appunto piuttosto nella costrizione che non nell'espressione. ma che cosa libera poi l'arte e quale può essere l'arte della libertà? Beh, io credo che l'arte a questo punto libera ciò che noi non sappiamo di noi stessi. E allora ritorno per concludere su quello che io ho appreso nel carcere. Ripeto, in questo ultimo tempo sto ripetendo sempre alle persone detenute che la pena deve valere la pena. Se non vale la pena è una punizione. Cioè la pena deve valere la pena. In fondo quello che facciamo nella nostra solitudine è una pena. La solitudine è il sentimento di ritrovarsi nella moltitudine di voci che ci albitano. Pure quella è una pena ma deve valere la pena. Bisogna pure educarsi. Ecco io sono assolutamente feroce nel fatto di dire ma smettiamolo con questo riferimento all'articolo della Costituzione che il carcere deve essere di rieducazione. Perché a parte che è una brutta parola di per sé ma noi sappiamo che è assolutamente inutile. Ancora di più è inutile se ci mettiamo in lavoro perché regrediamo veramente agli inizi dell'ottocento manco del novecento. E allora ripeto insomma la pena deve valere la pena. Cioè la pena deve essere un diritto. Questo vado dicendo che è un po' sorprendente per certe orecchie. Ma la pena deve essere un diritto quello per ognuno di sapere di sé quello che non ha conosciuto. Cioè di attraversarsi diversamente. Allora l'arte, è certo l'arte ma l'arte accidenti è importante perché ti fa vedere quello che non si vede. Guardate in ogni opera artista c'è come mettere l'occhio sulla serratura del segreto stesso della vita perché un artista ti fa vedere quello che non si vede. Il mio Lello che sta qua, Lello Esposito, cioè fa vedere quello che non si vede in quello che si vede. Cioè ti fa vedere l'invisibile nelle sue opere. Cioè tu vedi quello che veramente è nascosto dal vedere stesso. C'è un liberare lo sguardo e anche un liberare lo sguardo su se stesso. Cioè l'arte dice di te. Cioè la libertà è soltanto quando tu ti puoi raccontare. Me perdonate, questo riferimento per me è importante. La prima volta, ma oramai sono vent'anni fa, quando mi trovai nel carcere la prima volta mi dissero, ma che cos'è la libertà? Io mi fermai, non si può rispondere. Ci stavo a pensare. Poi mi venne da dire delle cose che dissi tra me e me, ma non le posso dire. Dici ma la libertà, ma chi può dire che cos'è la libertà? Chi ha una definizione della libertà? La libertà si può definire solo quando non ce l'hai. E di fatti a Scolete, i gastronomi di Scolete mi dicono, solo noi sappiamo che cos'è la libertà. Sì, dicono, è come per l'amore vero, anche per la libertà e per ogni cosa vera. Cioè si sa quando si è perduto, quando non si ha. Allora hai la definizione. Sì, di fatti, la definizione dell'amore vero ce l'hai quando l'hai perduto, la libertà, la definizione ce l'hai quando l'hai perduta. E qual è la definizione? Che non la puoi perdere. È ciò che non puoi perdere. Questo potrebbe essere la definizione. Ma di fronte a quello che mi dicevano i detenuti, ma la libertà che cos'è? Ma io non sapevo rispondere, però avrei dovuto dire e dissi, ma io sono venuto qui in moto, è una giornata splendida, ho fatto le curve di Nicia che sono meravigliose. C'era il sole, ho incontrato delle persone, il mio stato d'anima è stato come quello del cielo, insomma, si sta avvicinando l'estate. Cioè, la libertà si può solo raccontare. La libertà si può solo raccontare come l'amore vero e come tutte le cose vere. Si possono soltanto raccontare. Ma diamine, insomma, in un'opera d'arte, un artista si racconta, ma si racconta di ciò che nessuno conosce di lui e neanche di se stesso. Cioè, l'arte è importante per questo, perché è lo strumento stesso che ti permette di vedere quello che non si vede, ma anche propriamente di te stesso. Guardate, tutta la mia esperienza lunghissima nelle carceri è stata festeggiata sempre da momenti di straordinaria libertà. In persone che sono diventate, sì, delle persone, degli artisti, decisamente, insomma, è una cosa, questa qui per me è stata importante, non solo, ma la libertà, ripeto, è fatta di legami, è fatta di legami la libertà. Sapete, quando mi chiedono che cosa fai in carcere, facendo filosofia in carcere, ultima cosa che dico, perdonatemi, ma forse è la più importante, ben rifletterci. Quando mi dico, ma tu che cosa fai in carcere quando fai filosofia? Io dico, ci tocchiamo. Come mi toccate? Sì, ci tocchiamo. Perché è questo, sapete, la prima cosa è che impariamo a scuola quando smettiamo di copiare e di imparare a memoria, ma quando quel giorno ci insegnano ad imparare e quando ci spiegano i nomi delle cose che sono astratte e quelle che sono concrete. E al bambino si dice che il concreto è quello che si tocca e astratto è quello che non si tocca. Ma il bambino tocca tutto. E allora è il papà che gli dice quello stesso giorno, adesso andiamo a casa dei nonni e non si tocca nulla. Beh, il bambino resta un po' con gli occhi sgranati e non capisce. Io quel giorno, quando mi dissero che il cielo era astratto, insomma, sono persi il cielo. Insomma, com'è possibile che il cielo sia astratto? Lì in effetti ti insegnano quello che è degli altri e quello che è tuo. È l'insegnamento della proprietà privata, fondamentalmente, ma non ce lo dicono. Però poi da grandi ci facciamo quest'altra considerazione, che ci sono le cose certe e le cose vere. Le cose certe sono quelle che si toccano, ma le cose vere sono quelle che ti toccano. Noi in caccia che ci tocchiamo, ci diciamo cose che ci toccano. E ricordo, insomma, quella di Bellizzi, che a un certo punto uno disse, vabbè, forse poi uno di questi sei ci andiamo a fare una pizza, stavamo a parlare, insomma, lì ci andiamo a fare una pizza. Eh sì, ci andiamo a fare una pizza. Dove? Ma eravamo liberi. Stavamo veramente liberi. Quello stesso giorno, accidenti, però, tornando a casa, li pensavano. Sapete, insomma, le persone detenute diventano tutti esperti di giurisprudenza. Leggono i loro processi. Non sono liberi perché stanno a fissare sempre la stessa cosa. Invece di andare a casa e mi sedetti sulla poltrona e mi distrassi. La distrazione. L'arte è una distrazione, accidenti. La libertà è una distrazione. Quando siamo distratti dalla normalità, siamo liberi. La libertà è fatta dire che non bisogna toccarsi, che per quello porto tutti i miei studenti nel campo. Bisogna toccarsi. Ci tocchiamo, ma proprio il toccarsi fisicamente, insomma, è importante. Ho capito le confessioni di Agostino soltanto in carcere. Avrò letto una quindicina, una ventina di volte le confessioni di Agostino. Ma l'ho capito in carcere quando Giuseppe, il mio Giuseppe, il mio straordinario Giuseppe, mi ha chiesto un colloquio privato e mi ha raccontato tutto. Tutto. Di quello che aveva combinato. Dico, Giuseppe, ma io non te l'ho chiesto, ne voglio saperlo perché io non voglio sapere niente delle persone, perché io mi devo incontrare con una vita, io devo incontrare la vita, io devo questo. E Giuseppe invece mi ha raccontato tutto. Dico, Giuseppe, ma io non te l'ho chiesto. Sì, ma lui aveva bisogno. Questa è la libertà. Del potere dire a chi non ti giudica, del potere dire ad un amico. Perché la libertà è fatta di legami. Nessuno è libero da sole. Forse il tormento dell'arte, forse il tormento dell'arte è proprio l'amicizia. L'arte cerca l'amicizia, bisogna guardare l'amicizia, però l'amicizia deve essere vera. Cioè non deve essere né giudicata, né come dire, insomma, fatta di interesse. Deve sostenere. Ecco, l'arte e non il lavoro. Accidenti. Le carcere e scuole sono il grado di democrazia di un paese. Decisamente è così. E io vedo questo paese che mi sta portando il lavoro, a scuola e nelle carceri. Siamo lontani. Il lavoro rende anonimi. L'arte libera. L'arte della libertà è l'arte dei legami. Il sapersi legare dentro di sé. L'impaginarsi, probabilmente. Il sapersi leggere. Il rendersi leggibile.